La regione Piemonte è tra le regioni che hanno mantenuto la legge elettorale statale, senza nessun tipo di personalizzazione, se non in minime cose. Ecco, come funziona l'attribuzione dei seggi sulla base del voto che ieri i piemontesi hanno espresso? La regione Piemonte continua ad applicare la legge 108 del 1968 e la legge statale 43 del 1995. Quindi abbiamo che 40 seggi dei 50 vengono assegnati su base provinciale, mentre i rimanenti 10, oltre a quello del candidato presidente che è eletto direttamente dai cittadini, vengono invece assegnati su base maggioritaria. Quindi abbiamo una prima assegnazione sulle singole circoscrizioni, le circoscrizioni ricordiamo che sono 8 e coincidono con le province piemontesi e vengono assegnati i seggi che hanno ottenuto il cosiddetto quoziente intero. I resti vengono poi sommati su base regionale e vengono ridistribuiti sulle singole circoscrizioni, tenendo conto però del resto più alto che ciascuna circoscrizione e ciascuna lista ha ottenuto. I 10 seggi del sistema maggioritario sono legati invece al candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Ecco, oltre al candidato presidente che farà naturalmente presidente della regione, sarà eletto anche un altro tra i candidati che non hanno avuto il primo posto. Sì, ottiene il seggio anche il secondo candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In questo caso diventa automaticamente consigliere regionale.